Ehi, ciao, come stai? Sono appena arrivata. È stata proprio una giornata pesante oggi, sei ore sui libri. Ho bisogno di staccare la testa. Ti alieni con me? Corro perché mi piace portare il mio corpo al limite e semplicemente quando lo faccio non penso a niente. Queste sono la mia arma segreta e non riesco più a farne a meno. Grazie a tutti.